Dal 2010, anno in cui fu introdotta la norma della compartecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, stando ai dati elaborati dal Ministero dell'Interno, i comuni hanno recuperato 109 milioni di euro, frutto di oltre 110 mila segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Se si analizza l'andamento delle somme recuperate, si è passati da 1,1 milioni di euro del primo anno 2010 ai 2,9 del 2011, transitando per i 10,9 del 2012 e ai 17,7 del 2013. L'apice si tocca nel 2014 con un incasso di 21,2 milioni di euro per poi rallentare e diminuire costantemente a partire dal 2015. Ma secondo uno studio della Will, rispetto alle iniziative di collaborazione nella lotta all'evasione messe in campo dai comuni che hanno attivamente collaborato a questa attività, le somme spettanti per l'anno 2018 ammontano a 11,4 milioni di euro, in diminuzione del 14,1 rispetto all'anno precedente. I dati che emergono dall'analisi, commenta infatti Ivana Veronese, segretaria confederale Will, sono alquanto deludenti. I comuni devono e possono invece fare molto in chiave anti-evasione, non solo perché così si potrebbero recuperare risorse per ampliare i servizi ai cittadini, ma anche perché una lotta serrata all'evasione fiscale e a quella contributiva permetterebbe di ristabilire equità e giustizia sociale. Per questo chiediamo, conclude Ivana Veronese, al Governo e al Parlamento di rendere strutturale, nella prossima legge di bilancio, il provvedimento che attribuisce il 100% del recuperato agli stessi comuni che compartecipano al contrasto all'evasione. A dare manforte alla posizione di Veronese, è intervenuta anche la segretaria generale della Wilmolise Tecla Boccardo, che parla di dati preoccupanti in regione. Dopo un avvio che lasciava ben sperare nel 2016, spiega, a distanza di soli due anni abbiamo visto scendere del 74% le quote di risorse assegnate e con i due capoluoghi che non hanno mai avviato l'attività di collaborazione in maniera diretta. Dal 2017 al 2018 vediamo che i comuni aderenti sono diventati da 4 a 6 e nella sola provincia di Campobasso, con somme ricevute pari a poche centinaia di euro. Dunque per Tecla Boccardo bisogna promuovere meglio e di più il progetto anti-evasione fiscale.